C'è l'amalo! Adesso usciamo tra due chilometri e poi dove vado? Eh non lo so poi seguiamo... Ah! C'è il navigatore! Il lungo che c'era su questa direttrice qua è un appello, hanno fatto anche l'attentato al treno Oh ragazzi! Madre mia! Ma qua noi dovremmo mettere le indicazioni per vedere, magari c'è scritto le indicazioni oltre che c'era il santo Sì, sì Sì Hai detto all'ora? No, lei è tallo subito! Ha detto buongiù? No Lì hai detto buongiù e allora hai detto buongiù Esatto Dopo? Sedi, c'era di qui, potevi andare là sopra Ma noi non ce n'è infatti un cazzo per la leggerla qua Dove è la sopra Di inizio Ma qui non c'è la via Sì 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 Tu guardai a quasi la mia briga Sì mamma mia che freddo mamma mia 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 freddo